L'Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa ha condotto un'intensa attività finalizzata al contrasto dell'immigrazione irregolare che ha interessato l'intero territorio provinciale. In particolare dall'inizio del mese di agosto numerose sono state le posizioni amministrative sottoposte al vaglio del personale specializzato al controllo del rispetto della normativa contenuta del cosiddetto testo unico dell'immigrazione portando alle emissioni di 20 espulsioni dal territorio nazionale di stranieri irregolari di cui 14 eseguite con rimpatrio a seguito di trattenimento presso i CPR di Caltanissette e Bari e sei disposte con ordine del questore della provincia di Ragusa. Il risultato è frutto dell'intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dalla questura di Ragusa sull'intera provincia eblea con la collaborazione sinergica anche del comando provinciale dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti di stranieri già colpiti da numerosi pregiudizi penali o che si sono resi responsabili di condotte illecite provocando un certo allarme sociale tra le comunità locali. In una sola giornata sono stati sei cittadini extracomunitari irregolari rintracciati che dopo le attività istruttorie sono stati espulsi dal territorio nazionale. Per quattro di essi già in ottemperanti a precedente ordine di lasciare il territorio nazionale il questore ha firmato il decreto di trattenimento presso i CPR di Caltanissette e di Bari in attesa del prossimo rimpatrio coatto con volo charter. Già rimpatriato invece un cittadino tunisino irregolare che nella notte del 24 agosto si era reso responsabile di atti di intemperanza presso l'ospedale civico di Vittoria. È stato invece attinto da un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Contrattenimento presso il CPR di Brindisi un cittadino comunitario resosi responsabile di condotte di degrado urbano a Marina di Ragusa. Non mesono gravosa l'attività condotta sul fronte degli sbarchi. Sono stati infatti circa mille migranti giunti presso l'autospot di Pozzalla a seguito di sette sbarchi e cinque trasferimenti dall'isola di Lampedusa per i quali l'ufficio immigrazione personale del gabinetto provinciale di polizia scientifica ha condotto un'attenta attività finalizzata all'identificazione e verifica delle singole posizioni amministrative. In totale sono stati 49 respingimenti con ordine firmati dal questore di Ragusa. L'attività di contrasto all'immigrazione irregolare proseguirà anche nei prossimi giorni con l'azione congiunta interforze della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.